Da allora io e Fabio un po' ci conosciamo. Di Dario mi sorprende che è sempre pronto ad ascoltare. Mi chiede scusa continuamente. Se avessi rallentato quando l'ho visto sulla bici, non l'avrei investito uscendo di strada. Tornare indietro è impossibile. Resta sulla buona strada. Adeguare la velocità alle diverse situazioni è un obbligo che può salvare la tua vita e quella di chi ti sta intorno. Grazie.